eccoci ben ritrovati i miei discepoli siamo in giardino con le mie bombe lupino nero torniamo a parlare come sempre di bonsai ieri ragazzi è stata una giornata molto difficile ha piovuto fortissimo vento esagerato quasi tromba d'aria quindi qui è stata veramente tosta la questione fortunatamente non ho riportato danni sulle piante tranne su una che mi è cascata per terra perché è un supporto ha ceduto praticamente un filo di rame si è spezzato pensate un po quanto cazzo di vento ha tirato quindi si è spezzato un filo di rame pianta si è ribaltata cascata per terra vaso rotto qualche rametto anche danneggiato per carta nulla di grave ho già risistemato tutto quindi nei prossimi video non vi accorgerete neanche di quale la pianta che ha subito il danno quindi oggi con molto piacere vi spiego come intervenire qualora dovesse succedere anche voi una roba del genere ok primo per sistemare velocemente la questione secondo per evitare poi che la pianta possa avere dei problemi l'anno l'anno successivo ok perché sono eventi traumatici sono sono bestemmie ok a raffica così veloci tata tata ne direte tantissime però ovviamente se sapete intervenire bene o male si rimedia primo primo secondo allora quando vi casca quando vi casca sta benedetta pianta da un supporto che può essere alto che ne so 60 centimetri come nel mio caso la pianta fa una bella botta posso garantirvi se becca se becca male salta via anche qualche primario ed è un problema grossissimo quindi attenzione prima cosa legare bene la pianta cioè legare bene il vaso al tavolo al supporto metallico che utilizzate proprio legandola ok in modo che quando tira vento non si muova secondo importantissimo oltre a legare il vaso legate anche la pianta al vaso prima di tutto perché sennò vi vola via la pianta si svasa da sola vi rimane il vaso lì e la pianta vi vola nel futuro terzo se potete mettete anche qualche ancoraggio primo sul vaso secondo anche sulla pianta in modo che vadano poi direttamente sulla gabbia sul supporto quindi che state utilizzando sulla recensione quello che avete ok così avete praticamente tutto quello che serve per essere deve avere la pianta in sicurezza ok quindi qualche filo in più mettetelo soprattutto anche in apice che vada poi posizionarsi sulla gabbia se l'avete fondamentale fondamentale se avete delle piante dei bonsai che sono alti quindi bungin litterati e comunque roba alta perché perché quando tira molto vento se avete molta vegetazione in alto comunque fa effetto vela ok e vi si ribalza invece una pianta più compatta bene o male il vento tende a spingere più solo il vaso magari tende a rompervi qualche qualche ramo e basta però piante alte tipo pini pini che vanno su il bosco di cipressi quello che è cercate sempre di ancora di avere più punti di ancoraggio quindi ancoratevi bene sulla struttura principale dove c'è il vaso e ancoratevi anche sulla gabbia se ce l'avete fondamentale detto questo siete a posto avete legato tutto non vuol dire di essere perfettamente a posto come avete visto ma la pianta mia cascata cosa ho fatto allora ragazzi quando vi casca e si spaccano tutte le madonne il consiglio che vi do è quello di intervenire subito appena potete ma subito in modo di andare a vedere quanto intanto quanti rami sono rotti e soprattutto anche quando terreno si è spostato dalle radici ok quindi se vi capita questa cosa ascoltate bene se vi capita questa cosa verso fine inverno potete approfittarne per fare un rinvaso se era in programma ok quindi tirate su togliete tutta la terra dal pane radicale mettete il rinvaso nuovo vaso e siete a posto perfetti se invece siete in un periodo come che ne so in estate se una cosa del genere in estate se succede dovete rimboccare immediatamente quello che avete perso di terreno e andare a rimboccare subito le radici sono rimaste scoperte questo perché perché in estate con il vento soprattutto le radici tendono subito a seccare molto velocemente quindi se la pianta secca le radici il bonsai diventa un bonsai ok quindi prima intervenite meglio è cosa fare nell'immediato quindi un falso rinvaso se potete se vedete che il vaso è rotto mettete tutto in una sottola ancora più larga se tanto era magari anche in programma andate a rimboccare velocemente soprattutto andate a coprire tutto con lo sfagno annaffiate subito immediatamente in modo da ricreare poi con l'umidità che serve scusate che serve alla pianta per sopravvivere che ho mangiato due piatti di lasagne cercate di aver pietà di me detto questo se qualche ramo si va a rompere oppure a danneggiare quindi a scosciare o a crepare cercate subito di portare di nuovo i lembi del ramo a combaciare quindi se un ramo come questo strac si rompe giù primo ditele tutte le bestemmie tiratele giù tutti quei santi perché tanto è colpa loro ok però se si rompe che viene giù riposizionate in alto il ramo con qualche tirante ancorato col tronco in modo che il ramo rotto ritorna in posizione e si va poi a riattaccare bene a riassaldare a risaldare quindi può essere buono anche infilare una vite passante da sotto il ramo che va dentro il tronco in modo da tenere in posizione proprio quando come quando ci spezziamo le ossa noi umani essere umani ok io ho fatto un tirocino sull'operatoria e proprio anche lì per tenere i lembi attaccati si infilavano le viti e le placche ok quindi questo è il suo discorso se c'è bisogno si fa anche una placca con due viti che entrano per tenere attaccato il ramo che poi dopo uno due tre quattro anni potranno essere rimosse perché a un certo punto il ramo si risalda ok spesso basta anche solo un filo un filo di rame che va attaccare il ramo qui con un tirantino oppure si prendono due rami in modo da tenere attaccato poi il lembo qua che si è staccato ok io molto spesso faccio così l'importante ragazzi cercare di tenere ben attaccato i due lembi in modo che si vadano a sigillare ok aiutatevi tantissimo con bloc pro ok bloc vi serve per andare poi a chiudere per andare a isolare ancora meglio creare ancora meglio cicatrice che vi servirà per avere risultato garantito ok spero sia stato chiaro ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando quando casca una pianta per terra intervenite subito che è fondamentale intervento e subito un'altra cosa se avete concimato il giorno prima e la pianta è cascata avete il substrato che va nel casino la pioggia di lavazione non fate un'altra concimazione tranquilli per quello che avete dato alla pianta l'ha già assorbito quindi dopo 15 giorni intervenite come se avete fatto le cose è normale come se non fosse successo niente però mi raccomando quando le piante cadono bisogna intervenire velocemente e risistemare subito la zolla per far sì che poi la pianta non subisca dei danni poi magari anche l'anno successivo ok perché magari molto spesso non si vede niente lì per lì l'anno dopo abbiamo degli scarti molto importanti di ramificazione ok ciao a tutti lasciato mi piace condividete con gli strumenti bonsaisti claudio bonsai.com per prendere quello che vi serve per fare bonsai in sicurezza soprattutto per avere dei risultati ok ciao a tutti